gentili telespettatori buona giornata benvenuti a questo video di tele italia parliamo di oliviero toscani che è stato scaricato dal benetton group lui direttore creativo quindi dirigente con un auto stipendio come giusto che sia per un dirigente viene lasciato a casa immediatamente con un comunicato della benetton lui prova a chiedere scusa ma niente da fare licenziato dopo anni e anni di lavoro decenni di lavoro in quell'azienda e amicizia personale con con i padroni di questa azienda perché viene licenziato per le frasi fatte proprio dette le frasi dette durante la trasmissione un giorno da pecora riguardo alla foto fatta lui ben luciano benetton e le sardine molti l'hanno accusato le sardine fai le foto con i poteri forti fai le foto con quelli del ponte siete ignobili andate di tutti i colori e e lui abbastanza stizzito in questa trasmissione ha risposto che ma cosa volete che schicchi a chi che a chi volete che interessi se un ponte cacade no e così studio gelo polemiche e i benetton hanno preso la distanza le distanze da queste frasi dicendo assolutamente noi prendiamo le distanze in maniera totale dalle parole di oliviero toscani e chiediamo scusa ai parenti delle persone che non ci sono più è così se voi sentite quella trasmissione lui oliviero toscani dice ma sono stato frainteso la frase è stata tolta dal contesto ma realmente la frase era proprio nel contesto si sta un po arrampicando sui vetri lui si dichiara addolorato dice che si chiede chiedere gli da pure vergogna e chiedere scusa ma alla fine il fatto è che lui è addolorato per aver perso lo stipendio lui è profondamente rammaricato di aver perso lo stipendio questo è se no non l'avrebbe detta quella frase nel senso sono un po come si chiamano lacrime di coccodrillo ma gadlerner prende le difese del fotografo e dice è un vero artista ma se sarà anche un vero artista cosa c'entra con delle dichiarazioni dette ad una radio vabbè vediamo che questa mattina dice ci siamo svegliati con tutti una terribile notizia il deragliamento poi vabbè di quello che è successo proprio ieri ma qualcuno proprio oggi con altri problemi che abbiamo visto in italia prende le difese di oliviero toscani di chi parliamo parliamo di gadlerner che commenta sia le parole di oliviero toscani sia la decisione di benetton di rescindere il contratto con il suo direttore creativo e anche fotografo dell'azienda ma sentite le parole di gadlerner che dice oliviero toscani è una gran testa di di kaiser una grande ho detto con un'altra parola no un grande artista un innovatore che per amore di battuta può lasciarsi scappare terribili bestialità insieme a tante verità scomode si legge sulla pagina facebook di gadlerner e poi dice sia scusato era il minimo ma la benetton che interrompe la collaborazione con lui riesce a farci una figura ancora peggiore queste sono le sue parole quindi toscani per lui sarebbe una geniale testa di cavolo no ma anche un grande artista che si lascia scappare terribili bestialità e tante verità ma in questa circostanza le verità non ce ne erano sinceramente in queste dichiarazioni toscani ha solo fatto una brutta figura però c'è da dire che anche a me ha lasciato un po un po interdetto il fatto che oliviero toscani è molto più di un dipendente della benetton group è una persona che lì dentro ha fatto la storia che un amico dei proprietari dei benetton una persona molto vicina possiamo dire un amico seppur sia stato siano state gravi state gravi state gravi le parole che ha detto togliergli il lavoro su quale probabilmente lui si sostiene togliergli il lavoro avrebbero potuto fargli una rimproverata o aver detto io credo non so benetton potevano pubblicamente dire ci dissociamo gli abbiamo fatto una lettera di ammunizione anche però attenzione le parole dette da oliviero toscani non è non erano sul posto di lavoro lui l'ha dette come privato cittadino in una radio quindi la connessione col licenziamento nell'azienda se lui parla in radio non non vedo la connessione secondo me le parole di di oliviero toscani sono state pesanti gravi no come dice gad lerner si è scusato era il minimo però il licenziamento secondo me io sono d'accordo in questo caso con gad lerner è ancora peggio nel senso che non non aveva senso il licenziamento naturalmente loro che stanno per perdere queste concessioni perché il movimento 5 stelle sta andando dritto per la sua strada ovviamente gli ha fatto prendere questa posizione per dimostrare all'opinione pubblica per dimostrare al governo che loro loro sono assolutamente solidali sono sono contro tutto quello che è successo che loro sono dalla parte giusta non dalla parte sbagliata che non sono dei dei mostri e così io credo che il licenziamento è stato sproporzionato naturalmente c'è mezza italia che esulta perché lui era un insultatore di salvini quindi c'è la rivalsa però sinceramente mi sembra sproporzionata la reazione nel senso potevano prendere le distanze fare un comunicato noi siamo le nostre parole che poi l'hanno anche fatto ma l'allontanamento dall'azienda secondo me o c'è qualcosa in di più nel senso che probabilmente magari il rapporto era già incrinato magari i benetton non hanno gradito le sue esternazioni ultime su tante altre cose che ha detto pubblicamente le sue cose non tanto simpatiche che dice probabilmente magari avevano già incrinato il rapporto o magari per nulla quindi secondo me è sproporzionata la reazione dei benetton verso quest'uomo che ripeto ha detto delle cose brutte brutte che ha chiesto scusa ma rimangono delle cose brutte perché lui è un certo tipo di persona però io onestamente devo dirvi che secondo me il licenziamento non è non è la contropartita giusta secondo me secondo me è una è una rivalsa dove c'è un abuso di un abuso di rivalsa verso quest'uomo che io non lo difendo per niente anzi non mi è mai stato né simpatico non ho mai approvato quello che dice lo ripeto un certo tipo di persona da cui io da quel tipo di persona cerco di stare io le individuo subito quel tipo di persona e cerco di stare alla larga io mi immagino che però onestamente vi posso dire nonostante io starei a 100 metri da quel tipo di persona e sto a 100 metri da quel tipo di persona secondo me il licenziamento è spropositato è mia opinione vi devo dire anch'io trovarmi d'accordo con le parole di Gadlerner è abbastanza difficile però in questo caso io onestamente vi dico sono d'accordo con quello che dice Gadlerner è una testa di un artista ha detto una stupidaggine pesante ha chiesto scusa ma non servono le scuse però la risposta dei Benetton secondo me anche per il dato di fatto che c'è un'amicizia tra queste persone ventennale o se non di più lui ha lavorato duro in questa azienda liquidarlo così per una dichiarazione fuori dal mondo Benetton non ha danneggiato il marchio ha fatto una dichiarazione personale in una radio non vedo attinenza naturalmente il mondo di sinistra non ha detto nulla su questa faccenda non ha detto nulla su le parole di Toscani c'è una caratteristica del mondo di centrosinistra che quando un suo adepto fa o dice cose di questo tenore verso altri politici verso chiunque dalla parte di sinistra c'è un silenzio assordante le minacce a Salvini le cattiverie verso Salvini verso la Meloni da parte di alcuni giornali verso esponenti comunque del centrodestra quando avvengono dal centrosinistra c'è silenzio assoluto un silenzio assordante e ingiustificabile ingiustificabile io vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale l'iscrizione è assolutamente gratuita non comporta null'altro che un aiuto al canale ad essere più visibile siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia dove trovate tutti gli stessi video presenti su Youtube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di giornata arrivederci